Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come, come, come state? Spero veramente bene, dai. Mi dispiace un sacco se magari qualcuno di voi sta male. Oggi sono qua solo per voi, per fare un nuovo video ASMR, per far sì che questa notte sarà stupenda e riuscirete a dormire perfettamente. Ma adesso indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi. Sì, va bene? Ok. Io ho qua davanti a me diversi trigger e uno di questi non l'ho mai fatto, quindi sono molto excited. Ma, iniziamo. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pluck. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A fine video voglio che scrivi nei commenti qual è stato il trigger che hai preferito, qual è stato il tuo preferito, quello che ti ha rilassato di più. Va bene. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli occhi si stiano iniziando un po' a chiudere. Grazie a tutti. Da questo lato e da quest'altro lato. Perciò chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Buongiorno, buongiorno. Sono veramente fiero di come sta uscendo questo video perché per qualche strana magia stanotte non c'è caos. Quindi, meglio così. Ok, adesso il penultimo trigger prima della sperimentazione del nuovo trigger. O sottopentola. Ok. 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 Adesso ho la pellicola trasparente che metterò sopra il microfono. Ok. 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 Questo spruzzino. L'idea è di spruzzare in aria e far gocciolare l'acqua. Ma vedremo se funziona. Oddio, ha funzionato. Me ne è andata più in faccia che altro, ma... Poi ovviamente sarà tutto bagnato, ma... Dettagli. Oddio, ma è troppo bello. Però è meglio non esagerare. Eccoci qua. Quindi... Cucu, cucu. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della OOPS community. E diventare un'OPSina se sei un maschietto, altrimenti un'OPSina se sei una femminuccia. Poi lascia un bel like, un bel commento se hai un attimo di tempo. E... Niente. Il video finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente. Di qua una mia playlist. E qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere tutto quello che vuoi. Sia video che shorts. Quindi ora ti mando un grande, grande, grande bacio. E buonanotte. Buonanotte.